Dal pensiero di San Pio del 25 di ottobre, mese del Santo Rosario Il Signore ci fa conoscere chi siamo un poco per volta. In verità mi sembra inconcepibile che uno che ha intelligenza e coscienza possa insuperbirsi. Questo pensiero è stato tratto dal libro Padre Pio, un pensiero per ogni giorno dell'anno, edito da Shalom. Grazie a tutti.